Oggi al Libro Possibile si parla di sostenibilità, in particolare sostenibilità per le imprese. È la chiave per il successo delle imprese italiane e non solo? Sicuramente il tema della trasformazione sostenibile è un tema cruciale per tutte le aziende del mondo. In questo momento è chiaro a tutti che il capitalismo così come l'abbiamo costruito non funziona. Bisogna ripensarlo, bisogna creare attività di impresa che creano valore non solo per gli azionisti o i proprietari d'azienda ma per una pluralità di stakeholders. Questo è un chiaramente grande rischio da un lato per le aziende che sono chiamate a fare un cambiamento, un percorso di trasformazione importante ma anche una grande opportunità perché cambiano le regole di mercato per cui oggi nel momento in cui la sostenibilità diventa un fattore di competitività porta le aziende a trasformarsi ed alcune saranno più forti di prima. Credo che sarà un'opportunità unica per le aziende italiane. C'è chi dice che è in qualche modo una moda, un modo per avvicinare il pubblico più che una vera way of thinking in questo modo? Sicuramente veniamo da almeno un paio di decenni di greenwashing e probabilmente questo ha fatto parte di un percorso di cambiamento che è dovuto essere anche un cambiamento culturale. Oggi la sostenibilità sta diventando realtà perché per la prima volta c'è pressione da tanti stakeholders, c'è il governo che fa pressioni, le grandi aziende che fanno pressioni, i consumatori che fanno pressioni, gli attivisti e questo fa sì che oggi le aziende non riescono più semplicemente a parlare di sostenibilità facendo greenwashing ma devono diventare più trasparenti, azioni concrete devono seguire le parole.